La Fondazione Zappia di Locri ha ospitato il concerto con Leuco, un'opera ispirata ai dialoghi di Cesare Pavese che dedicò a Bianca Agarufi, la donna che amava senza esserne ricambiato. La proposta di Agnese Ricchi, di attrice del progetto e interpreta assieme a Cristina Golotta, vede le due attrici interpretare un viaggio sensoriale tra suggestioni psicadeliche e installazioni video sonore. I personaggi di Circe, Leucotea, Saffo, Bratimarti e Aradne si avvicendano su un fondale su cui si susseguono senza soluzione di continuità, quattro proiezioni che appaiono e scompaiono e fungono da completamente ideale ai sogni, le paure e le emozioni dell'autore. L'evento è stato prodotto dal Centro Teatrale Meridionale di Domenico Pantano. La selezione privilegia tre tra i più noti dei 27 brevi racconti in prosa che compongono i dialoghi e la cui struttura riproduce le prose di Charles Baudelaire, scrittore che rappresentava un modello per lo stesso Pavese. Insomma, uno spettacolo che si apre con le streghe, la rievocazione dell'incontro tra Circe e Odisseo. Prosegue con La schiuma d'onda, una conversazione sul desiderio di due ninfe trasformate ma non annientate e si conclude con La vigna, la storia di Ariadne, abbandonata da Teseo dopo il viaggio nel labirinto. Sono la regista e ideatrice e interprete di questo progetto Concerto con l'Eucò, tratto da Dialoghi con l'Eucò di Pavese, dal quale ho estratto tre dialoghi che mi hanno ispirato un'installazione video sonora, sulla quale poi ho portato la mia esperienza teatrale insieme a Cristina Golotta. Abbiamo interpretato al femminile, tre dialoghi al femminile, Circe, Saffo e Ariadne, dove appunto l'autore Pavese attraverso il mito esprime tutte le sue angosce, i suoi sentimenti esistenzialisti sulla vita e la morte. Per me fare questo lavoro o comunque entrare nel mondo di Pavese è veramente un'esperienza, un'esperienza a più livelli perché è un'esperienza fisica per come abbiamo deciso di farlo perché non è un reading, sono parole che abbiamo deciso di attraversare volutamente con il corpo, attraverso l'utilizzo del nostro corpo diciamo neanche utilizzato su un piano razionale ma quasi veramente irrazionale perché una grande componente di questo testo è proprio una componente di tipo spirituale, cioè io penso che sia io che Agnese l'abbiamo sentita molto forte ed è stato il là che ci ha portato a questo tipo di registro e a questo tipo di sperimentazione. Questo spettacolo fa parte del programma della Locride che portiamo avanti da circa 30 anni, quindi un lavoro enorme fatto su questo territorio e quest'anno ho voluto anche inserire una cosa un po' particolare che è un tipo di spettacolo sicuramente sperimentale non rientrante in quelle linee che da anni portiamo avanti, quindi anche come si dice in qualche modo provare a inserire delle cose diverse e dare anche opportunità agli spettatori di poter vedere anche cose non prettamente tradizionali o rientranti in quel repertorio che per anni abbiamo portato avanti. Quindi questo tipo anche di progetto anticipo che farà parte anche di un documentario che andremo a realizzare prossimamente, quindi a maggiore ragione era giusto anche presentarlo qui a Locri nella villa della Fondazione Zappia inserito nel programma estivo.